Un evento spettacolare all'Earth Court di Londra, con entusiasmante performance lungo il Tamigi, per presentare la nuova XE, berlina sportiva che consente al Jaguaro di tornare nel segmento delle compatte premium. Monoscocca ad alta densità di alluminio e design e classica trazione posteriore fanno di XE una vera Jaguar, ma anche di più. XE è la berlina più leggera, rigida e aerodinamica con un CX di 0,26 mai prodotta da Jaguar. La prima a essere svelata, tanto per far capire subito di che cosa stiamo parlando, è la più sportiva S, equipaggiata col motore V6 di 3 litri da 340 CV, in grado di farla scattare da 0 a 100 orari in appena 5,1 secondi, ma sul fronte dell'efficienza brilla anche la 4 cilindri diesel da 163 CV, con consumi di 3,8 litri per 100 km ed emissioni di CO2 di 99 g al km. La nuova XE, che promette di essere tutta un'altra storia rispetto alle esperienze del passato, verrà commercializzata in Italia a giugno del prossimo anno, con prezzi indicativamente a partire da 37.750 euro.